Io perché sono qua non lo so signori, io sono qua perché è l'ultima chance, l'ultima spiaggia questa qua, io che faccio un po' di comunicazione cercando anche di divertire un po' mio prossimo, ma è proprio il caso di oggi, guardando le facce che avete, però il discorso è che la comunicazione è finita, i cittadini non sanno nulla di queste cose, se provate a parlare a un cittadino o a qualsiasi della comunità europea non sa nulla, è una cosa che non si sa se funziona o di cos'è, ha provato a fare una Costituzione e l'ho letta e mi è venuto un mezzo di esaurimento nervoso, non sa assolutamente, sulla pagina del Finanza al Dandi ieri, in prima pagina c'era Brodi, mi hanno chiesto quanti rumeni sono entrati in Italia, lui ha detto no money no, in inglese, c'erano 200 milioni da prendere per finanziare l'accoglienza perché non abbiamo accoglienza, sono ancora lì, non li abbiamo presi, non si parla di moratori, allora con questi soldi qui che cosa vogliamo fare? Accogliere degli stranieri, stranieri, stranieri rumeni ancora che non ci stanno più o con questi soldi finanziare le aziende per farle rimanere in Italia perché noi siamo e non ne parla nessuno in Italia, ci sono 22 mila aziende in Romania, 22 mila e 22 mila hanno preso dei soldi, da chi li hanno presi questi soldi? Allora questi soldi invece di dare alle aziende perché aprono in Romania, li diamo alle aziende per aprire e stare in Italia, io non voglio più una lira da voi, non voglio più che mangiate niente, non voglio più che mangiate niente perché adesso vi diremo e vi dirà una persona competente dove vanno a finire i vostri soldi, voi vi ripeto state finanziando po' casa